Buonasera e benvenuti in questo episodio buonasera buonasera non so cosa serve per ora però io la faccio sempre, aspetta un po' ok va hai mai fatto la scena un po' come sapete la gente si mette la sede e fa le cose quindi non possiamo legarlo, non possiamo dichi niente vediamo cosa ha fatto a parte che non so che è esplosato l'improvviso mentre ci fa un altro è esplosato un ghost cadet? non lo tocca la roba maledetta non la tocca volevo farlo così ovviamente queste sono da cambiare però non mi metto a cambiare roba prima di selezionare ho sistemato la roba si è collegato alla cosa? non ancora si e passano ancora delle cose da smistare qua dentro passano quelle là che ci servono ho fatto di uno start che fosse qualcosa vabbè ci sta un magazzino vabbè in realtà è fatto bene a farlo off camera perchè non l'ho bella noiosa è pronto? ah che cosa ma ci mette le carte una piccola eh una piccola vabbè una piccola vabbè sono tre reattori vabbè ci sono tre però non ho fatto pure il combustibile perchè vabbè non poteva vabbè prima volta vabbè che è il chi va mi dopo non ho messo non ho messo spuggerse fare sinceri già così eserge brucia ottono per farlo bocca a rossa roba quale roba combustibile non c'è a quello quello la 4 sta qua vedi e questo qua non già combustibile no quelli a uno quello la poi in cesta case e tu che fai il video che è questo marone credo a lei ogni tanto di ospite frate ma non mi faccio a fare la mf se un che va dentro le mf se utilizzano come batteria anche perché c'è il post però stavo pensando di staccarne fratello uno e non portando tutte e tre la stessa cosa magari uno utilizza magari pezzo utilizzando solo per la roba dell'industria cast tipo questo po di qua collegarlo proprio e fare un'altra cosa per l'industria perché poi dei sani macchinari che abbiamo tolto proprio qua ho portato tutto giù perché vedete le cose di corretta non ancora provate a già picciano a picciare pc 3 padre si è debbuato e su batinare la cosa come su batinare qualcosa no tu di chiudi è saltato e messe la no no la mfs con l'altro questo è un po collegarlo qua abbiamo già fatto una prova in ogni gazzetta è troppato un tubo di questi e che sul campo di questo così no non lo puoi mettere ha detto al canale capito quando ciò fa già niente o sti lingot e redstone a quello che si faceva quel caccio al collo lascia e mezzo e due figli ragazzi di rinconi di ricordi tra l'astronamere giù non lo so sperato mai del charco lo anche il va bene sì ce l'ho il suo number ok cosa devo fare io è legno percorro di selezion bene sono più bloccate sì così no non è questa questione di server e sembra che lento sicuramente però ma per esempio che sono pure attorno a coppia dei bombastoni harry potter l'altro quello che fa uscire questo non sta entrando fa con l'irona l'impuso sta sopra mi ricordo è un altro amore ammigatti la domanda potevo farti vedere ancora un'altra cosa che non ti ho fatto vedere però mo che andiamo nell'altro mondo senza senza che tra sim ogni bot e vecemo già da fuori quanto ne sono di materiale senza che con il mio bot entriamo capito magari spagliate più start così già lo vedi quando ce ne sta dentro e cazzo e vieni mi faccio vedere cazzo da ah la luck roll eh frate la giudizia ci stavamo a fa però guarda il caglio fa da quella pianta che stava giù ah buono l'ho messa qua cazzo fatta la digi sicca blu che poi mi serviranno per fare i verdi ma già fai verdi andiamo a aumentare i verdi adesso ha lo sblog eh ma se bello l'infusor eh se bello l'infusor eh se bello l'ha messa l'uomo eh vediamo l'arma fa notte due pezzi di redson un osmium due formaggi quattro pezzi di ferro quattro di questi qua rossi vengo già una ok un lapis dalla redson tre ore per fare il coso un lapis l'ora e quattro di redson tre di oro e un lapis e un fricchetto un lapis quattro di redson tre di oro tre di oro giusto abbiamo anche visto siamo a due frate il suo coso insomma vabbè comunque la prossima missione sarà fare un bel po' di servo potenziati e sussidio chi servo che abbiamo non si chiama che lo cosi per dire lo da ricerca altf qua e altf qua e tre più ok sta succhiando vedi ha succhiato tutto ha succhiato mo frate va che ha picciato da voi c'è un t3 frate ma c'è un t3 frate ma tu ti fidi a tenere le tutte e tre accese comunque frate c'è un problema con e forse ho capito quale potrebbe essere il problema c'è roba se la chiama la roba che c'è qui questa roba qua che non se la chiamo da questi tubi che arrivano qui che arrivano qua che scende non sono collegati a questa frate guarda ah frate però non sta collegata la cesta per portare roba giù come si chiama chi li la questi si chiamano item duc topati allora aspetta un secondo no questo qua venismi stato e viene qua quello che non venismi stato deve andare avanti deve andare in questa cesta eh lo servo ah no lo servo non servo vai andi è questo pochino frate ho finito il pochino abbiamo esbloccato il problema vediamo che si cavano a bash giusto è questo si vanno in due magazzini ma come l'hai fatto che si è dubbio qua trasparente guardate è più semplice si cavano a fare questo è più semplice vengono fatti semplicemente con guardate l'hardnet glass come si fa l'hardnet glass eh io feci questo vetro qua è con il link questo vetro? si fa con il colorante con il vero facetto nuova cella che fa si può fare con un nastro un sott che è pericoloso ah voglio lo basta questo mi faccio ingrippati il team c'è capo il pensiero e facili no ma fa prima la pagina guardate che ancora mi fa prima la pagina la pastit qua nelle queste già abbiamo tre cose da fatte ok quindi abbiamo fino a qui in teoria ma fa sta zuppa e merda ma fa ma doveva fare? guardate quante semmeno fa la fa eh non so c'è ma fa noi che forza se fa niente allora ricominciamo la zuppetta cosa vi serve? ma fa zuppetta che sti facendo tu l'ultima steve ancora no vado a muovere mai allora la pila di neutroni sta qua dentro ah feci il seed della water essence come si faceva trasforma nel seed del processor oppure l'ultigenic insolator con questo lo squeezer l'unica cosa non più come si fa? ha stronzato a farlo io stavo facendo la water essence e la fire essence io ti faccio un attimo l'essence ingot dice che lo sai farò vado a prosperite con laio allora questo dice di cucinare nello smetting la soulstone come si fa sta soulstone soulstone ma io la sto cucinando perché non va? perché ho la soulstone? che ha fatto questa? io è lì quanto che si fa sta roba non so perché è meglio così io ho fatto il mystical machine frame intanto quello che va al centro con una cosa che non ricordo io dov'era devono all'altro mondo è per il seed dell'inferium sì ma di che cos'è? come si chiama? della water essence ma c'è soltanto uranium seed redstone seed qua allora non me l'ha dato di altro ragazzi sono andato in un po' di strano ma controllo la forza ma controllo il reattore se ci sta ancora quando lo sei messi qua? come ne ho due tre quattro a me è la fredonium che serve la verde scuro porca puttana porca puttana ma io per caso ma io per caso guarda serve che la verde scuro a rapida quindi la russo la supremiamo tra 25 tra non so che i mezzi si cava quando te ne sei venuto i lingotti lingotti? no per fare blocco mannaccio bocchino non ce la facciamo seed del processor che serve come corrente a sta cosa? no no corrente oddio di che cos'è della magistica l'agricoltura il buco è bravo oh lascia stare il mio piccone ma da questo che sta cucinando un piccone sta cucinando ma manco uso sto piccone sembra caricato della nave tenere l'unico rendo sto corso ah i seed di water seed azzu qua a buona come azzu qua azzu qua tu oh sta giocando oh 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 l'hanno fatta non ci sei puto ok prossimo prossimo oh oh trafano trafano andiamo al magazzino c'è stelle queste magazzino 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 no ban no ban dove serviva sta cosa eh che se si riprenda a zuppa frate metta a zuppa non l'ho occupato metta a zuppa no che si è proprio zuppa frate ma è a 4 a 3 a 2 quando ne so un castello questa roba cadinta la moto di moon e tu hai cadinta ok eh fratello no 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 fire seed no buona sono usato picchi quazzicchie là allora tu avviate già ecco a lei tier 2 il tier 2 ce l'abbiamo no vabbè si fa con il seed dentro e si fa coperto da tonne e dai seed quelli da più scuri non è quello la scura il tuo quello la che stai usando è chiaro non lo bemmo non lo bemmo non lo bemmo ma si fa con la prosperity diamo in base diamo in base jay flash portale da te pot boom boom la prosperity da te pot come sta prosperity con una farm automatica ma 6 per di pochino andate 1,2,3,4,5,6,6,6,8,8 Criuli nore quindi 5 il base crafting seat 6 11 123 intorno oh o così questo non è questo io non è che raggi fattura primo stesso errore e guarda questo invece posso fare pure le queste due ma su farsi di combina solo qua dentro lo piantiamo chissà no che andiamo lo facciamo il più aspetta frate io non è troppo non cresce da tendere l'unica soluzione è qualcosa che ho detto che ho messo già di là ma fa una danza della pioggia fa cosi ci ha cresciuto la danza della pioggia oggi marone che ci vuole i bambini al quello la rosa o ho fatta nascere abbonia manco metto in nostro coso pezzi in me da che non ci ha detto che si deve fare così e di a volte le moduli non mi fanno capire che mi sarebbe se lo piantavi senza metterlo nel sit processo di dava il file essenzio di da manco il sito un cappato stiamo in una manestra io la patata è salto a me io ho dragon fruit lo qui la ronna oggi devo dragon fruit pozzo sai che avrei a beetroot si la tiene i bambini stanno cassa mica abbiamo un dra... no aspetta fermo no no fra no si sta nell'altro mondo raggiù e qua non lo spawn da barbobietro in questo mondo qua no il dragon food ci serve mannaggia rubiamo visto albero ti può craftare col dragon fruit intorno pure che si fa in un coso strano con flux ed è sempre con il suo sapling oh te c'era una brutta notizia facciamo così market sapling market fermi tutti così me lo dici? salvi negozio stanno ma che cazzo dici? no 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 non lo fare vai 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 togni vai togni vai togni vai togni vai mannaggia stagliato maron non non la chi no frate no frate dai dai l'albero 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 adesso Adesso è l'altro della gomma, non ci posso credere. Cazzo ziii. NOOOOOO la weed seed! Ha voluto una bella percorro? A terra, a terra, a terra. A terra, a terra, a terra. C'è uno con la terra. Sali, sali, sali. Questo va finendo la moneta. Ho prendito subito un qualcosa, perché vanno a finendo la merda. Non c'è uno spazio libero. A via. Uno. Deve neanche due. Adesso che ti serve per mettere la molla? Un sapling e un chiede muerto. No, che è crashato. Oddio, mi è crashato. Mannaggia, il club. Allora, non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Non c'è più. Sei tornato dove sei crashato tutti chi? Molto vicino. Avete il calendario del 2024 vicino. Sei mutato, avete il calendario. Adesso non c'è niente. Ma se non c'è qui è che ça va ? Non c'è più che c'è qui. Non c'è più che c'è più che c'è più che c'è meno Здorno. Ah, io, pozzi, però. Tu che cassa hai visto che c'è il caccio tu errai tuccato? Perché stava male con noi. Non c'è più che 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 c'è più. E tu le hai tuccato, no? No, no, te lo giuro, ho visto. Han, l'ho visto i raggi che andavano in area? se l'aveva in laghi blocco ccusa pli no e non so vinto o more tra si ha vado 3 2 1 lasciato no cilu quark se cresce una auto ma un cazzo come una bestia vai esso come mani sopra un dubbio vai eccomi passate a tempo non si può fare un tipi a mesi non è troppo no cresce sempre ecco l'ho bannato 12 eccomi ok 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 risolto risolto Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta perchè Hanno messo la pacifica Ma cose che fa crashare Sono le cose che abbiamo aperto Che hai aperto, spammato i giganti Quella zona appena ti avvicini Crash il mondo Perché non vedi un attimo Che c'è dopo Intanto faccio una cosa Mi scolgo un attimo il tubo qua sotto Mi serve un tubo Lo rimetto appena finisco Non è che le vengono cosi, le abbassano No, no, no Dragon fruit sapling Ti serve E bitroth seed E invece Altra cosa che mi serve lì Questo non ce lo do Guardate Tutta fatta Ma adesso quando il dragon fruit L'induccio smette lo dimmi a bash Aspetta, no, no, a bash non dimmi niente Ma è dell'industria craft Thermal expansion No, io voglio bene Non c'è con città già fa questa questa Ma è vero, mi vuol fare tutto quanto Aveva fatto lì No, sta un vetro al lato Ti lo tieni tu? No Qua serve? Sta al lato E quant'è dove serve? E 4 in teoria 1, 2, 3 E 4 Il machine frame che l'abbiamo fatto Finalmente E l'ho dato a Gesù Illumium si fa In questo modo In questo modo In questo modo Abbiamo fatto anche L'induction Dove metto garlic Garlic Ma non il seed forza No, ho il L'aglio C'è no E ho messo il seme E ho l'aglio Come è con mutente? Scusi Ah ci ho messo sema Ma poi scusa Ma stai variando Forza No 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 Mi fate un fail C'è sta Minus Soi bin Ah io rimosce Soi bin Soi bin Ah si ce l'ho pure questo Eh vedi sentite anche questa la piantina Forza lo prendi di uno e fallato So faccio il tuo ma se stasso usato Fai la soi bin Capi? Soi bin Eh Eh fai quello Sempre col seed Vedi sta Se vedi crafting Ma ci salva la vita Sto viaggio Mi darà la silken tofu E io mi faccio stock E capi vici? Fa la silken tofu Vedi come si fa la silken tofu Vedi 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 la silken tofu Come si fa? Come la silken tofu Eh vedi vedi No aspetta No aspetta No aspetta No mi serve La silken tofu Per la te Da pressa Vagio e che ce l'ho massata pari anno Vedi 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 C'ho una Una cove essence Che si fa con la cove SIDS Eh 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 Ho betruite E' visto la come si fa betruite Come fare a voi Ah su rabbit Poi l'ha vede fatta Su rabbit Ah spi E che è nata cosa Poi ci arriva Carrotso Io forse l'ha fatta Carrotso Ma tu stu facendo Un arturizzo Io l'ha fatta Carrotso Prima 4 short fruit Vedi Eh ma io sto fare bene a bianco mo Ah fa borsa O c'è sta la roba là Ah ma si sta prendendo domani Come voglio rire eh No no Tu fermi Ah short fruit Sto pariando Sto bene Sto bene Del land seed Scusi Le vende anche land seed No eh Ah si fa con questo Quando te ne sei venire Sbondero Land cluster Con land stone E il purpur block E' successo E' a porso Giuseppe Forse tengo una Una carne di mucca E due pere di mucca Se ti può servire I blocchi di Purpose Invece Qui ci matrimo C'è la sua flora E' cadendo Vero a fare Il tema Dice Utilino Deve solo l'endostone Ripiazzarlo Land son Che è land son Sono troppo Di una cesta Ma vediamo Vediamo Ma è momentanea Ma scena Abbasci Ma andiamo da là Sì Allora Passiamo Mo Mo Questa Ah Temmo Eh ma Scegli Il vostro Metto Su Che Se Una pianta Che Da rimane Quando ci Vado Fanno Nascere Su Gli De Oh 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 Ui Ui Metti Mi fate Crescire Ancora Mi fate Crescire Perché non Cresce Vabbè No Vada Qui Crescire Abito Su Pena Sfonsate Crescire Seder Trasce Ti Mi Mette Lui E Di Ma Crescire 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 Un pezzo Di sale Ho preso Una carne Carne Tengo Tutte Due Tengo La Ro Rund Altri Due Tengo Aspetta Questo No Il Cerchi È Stato Fatto Di Questa Le Vick Bagono Di Le Vick Bagono Ce l'ho Le Vick Bagono Ci Fate Ci Fate Ci Fate Ci Sve Soltan Non L'hage Fatto L'hage Trovate Ci Soltan La Rabbit Show Una Ciotolina Puro Cero Il Con Io Si Può Fare La Rabbit S O Con La Fruit Bait O L'establish Con Morb Rabbit Bait Fruit Rapp Bait Le Piume Da cosa Escono Cioè Da Chi È Che Le Piume L'or Da Solo No L'Uccide Fatto Il Fruit Bait Quasi Mette Qua Dentro Il Grun Alcuno Pescia Ci fate Con Legno E Ciliegie C'è Legno Ciliegie Ci Fatto Una Cosa Non So Come S' Fattibile Però Pia Gesso Toto Rapp Si Chiamano Fruit Bait Che Fag Su Rob Cad Si Devo Piazza La Terra Facciamo Così Facciamo Così La Cesta Ovviamente Due Dammi Altre Mette Le Ceste Che Vu Ok Facciamo Così Basta Teni Shift E Ti Ridutore Il Trick Ok Capito Certo Sull'item Che Vuoi E Vedi Quante Te ne hai Dato Due Te ne hai Dato Ma Ti sei A posto Non c'è Stato Sta Generando Sta Generando Stato Troppando Le Blue Rabbit Blue Rabbit Oh mio Dio Oh mio Dio Quindi Abbiamo tutto Questa Da Così Ho fatto Anche La Rabbit Show Abbiamo Tutto Siete Pronti Bello A Su Prato C'è Nato Quatt A C'è Top Le Mo Ci serve La Iron Singularity Ma Qual è Iron Singularity Fra Scusa Ma Fai Singularity Allora Fai Neutroni De Gramsius Frate Ce l'abbiamo Questo Lo sto Facendo Già Ma Che Lo Fai Già Tu Ma Frate Ma Quello Ma Siamo Delle Pile Di Neuroni Qua Dentro Questo Il Colleg Questo È Il Colleg Do Un Altro Quello Il Compresso Questo Qua A No Il Neutron Compresso Mamma Mio Gesù Cristo Allora Cominciamo a fare 16 Block Di Iron Rimetti Questa Cesta 16 Bloc Di I Matrix Indon In Got 4 5 6 7 8 10 Di Scusi Da Cittadino Tutta Cosa Che Siccome Scusa Sono Una Questione Di Farming Neutronium In Got Eh Ma Che Non Faciamo Un po' C'è Assai Da Robo Per Fare Le Singulari Ti Serve Il Neutronium Compresso Abbiamo Fatto Tutto Mancano Soltanto Neutronium In Got Neutronium Bloc Al Centro Quindi Praticando È Soltanto Farming Amo Vaglio John Bounce Destroire Non so Chi La Stessa A meno Che Non Gli Fa Utilizzare Posso Fare Il Blocco Perché C'hanno Solo Nome Sì Sì Posso Fare Il Blocco Hanno Solo I Nome Silingotti Sono Sempre Loro Ho Fatto Il Dio Ultimo Affianco A Chi Sì Asimmetrico Lo E Vai Sì Spero Che A Mese Gusto A Maroon No 19 Cazzo 12 Mila Blocchi Di Ferro Vuole Soltanto Vedi 2000 Blocchi Di Ferro Non c'è Siamo 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 Tutto Le 47 Blocche Di Ferro Tutto Il Hai messo Qualche Blocco Forse Quaren C'è Solo Questo Ci sta Pure Il Golden Lapis Redstone Nether Quartz Diamond Emerald Vabbè Io direi Di Faccio Un giretto Nella Deep Dark Non so Che Cos'è Si Chiama Deep Dark Eh Ma Deep Dark Questa Era Mundo 12 Non esiste Nel Mango Quindi Chi Ha In In Questa Versa Non Sapeva Che Avrebbero Fatto In In Futuro Aspetta Il letto Il letto Va a mettere Le 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 Brava Eh Bestia Aspetta Un secondo Mi serve Una Freccia Una Freccia Una Cazzo Di Freccia Aspetta I blocchi Non ho Presto A che punto Sei Muerto Si Come Sei Muerto Ma La Vaglia Muerto Tom Non But Dimmi Tom Tom Lo Sei Non Lo Posso Scenendo Sempre Per Trovare Le Caverne Fermo Beganine Che Te Scu Vabbè Stai Mendo Contra Morta Ci Capite Ma Oh Guarda Chi Ma Che Siamo Litto Quando È Venuto I Blazer Sono Anche Lì Fatti Gli Scimere Blaze Che Lag No No Vai Giù Sono Scimere Blaze Sono Morto Pugliate Sotto Mue Legri Ma Sei Tutti Intruttavide Forza Anzi Tu Viste Piazzano Piazzano Io Forza Prato Tutto Sotto Tu Me Zuzgo Ma Dove Potru Anno C'è C'è Se Lo meriti Te Muori Giuro Eh Ti Ho Sotto Minerali Ci Sono Dei Minerali Che Nell'altro Mondo Non Ci Stano No 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 Stato Fino Alla Bedrock Concello Io Ho Trovato Tipo Una Caverna Con Dei Pinghi Strani Qua Poi Amano La Cagasi Mi Accordi Che Favo Dopo Jump Te No Eh An Palli Se Nel Cinever Te No Eh Quello Cosa Pei Tu Sapi Con Ma Non Mi C'è Tegno Allora Questa volta Ci Concerniamo A Fare Rettamente La Land Si E' Merda Sto Cosa No 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 C'è Un Cazzo E' La Lava Ti porta sempre qua Ti parla poi qui Fai way point e fai giù Perché No Si Way point A proposito di questi Io c'ho delle questa Da Da Che Chi Via Che Calcolo Che Dei Fare Uno Per Ogni Minerale Vedi Golden Lapis Red Diamond Emerald Copper Tin Lade Silver Nickel Fluxed Poi c'è il blocco di Enderium Ma io mostro questa La devo fare Non so cosa serve Questi infiniti catarist Se si fa gli infiniti helmet Noi vi salutiamo Nella prossima cercheremo di Aver finito il ferro Sarà un po' difficile Però penso che sia soltanto farming Quindi vedremo No no Che è successo Io ho crashato Hai chiuso o forse ho fatto crashato sempre No no io lo so crashato Vabbè stavo dicendo La roba del ferro Dell'oro Le facciamo man mano Cioè nel senso Pian piano le farm a queste cose Quello che abbiamo creato intorno Quindi tipo ogni volta che entriamo Facciamo 100-100 200-300-500 blocchi di ferro Li buttiamo da dentro ogni tanto E ci arriviamo Non è difficile da fare se ci pensi Però C'ho le farming Quello è il fatto Quindi la prossima volta Ci organizziamo per fare Qualc'altra quest Dalle pagine sotto E poi andremo nel land Quindi questo sarà il prossimo episodio Dato questo Vado un bacione Grazie per la compagnia Tutti quanti Ci becchiamo A prossimo episodio Bye-bye Bye-bye Grazie per la compagnia